E' un vero Baglio solo se è caricato sul suo canale YouTube ed ha il marchio Better Watch Baglio presente sul video. Non accettate freebooting, esigete sempre e solo video originali Better Watch Baglio. Seguite questa musica, andate con i vostri accompagnatori che mosso al dolore. Andiamo, andiamo nella sala delle torture. Lo vedo dal vostro volto che vi è chiara la geografia del luogo. Cercate di portare il maggior numero di voi in salvo dalla parte opposta. Quando do il via partite, il primo che arriva prende un fracco di punti. Coraggio, vediamo chi la spunta. Siete pronti? Via! Prima parte via! Un, due, tre, stella! Fermi, stop! Bene, prima puntata, prima vittima. Forza, forza! E' solo l'inizio di questo pericoloso cammino. Fermo! Non perdete tempo a vedere cosa vi è accaduto. Peggio di questo non può accadervi. Oddio, questo ci muore! Questo ci muore! Ce l'avevo detto io! Oddio, attenti a terra! E' fermi! Dove andate? Ammazzo! Forza signorina! Boh! Niente, questa andata è tutta così, ma è una tragedia. Se ne salva uno. Ma è troppo. Ma è possibile. E' come sparare sulla Croce Rossa? E' come sparare sulla Croce Rossa. Sembra salvare il soldato Ryan. Va bene, basta così, per l'amor del Dio. E vediamo i voti, però è una strage. Ma non è un gioco, questo è un calvario. Lasciateli passare, per favore. Hanno vissuto un momento difficile, quello ride, non ha boh. Aspettate, aspettate! Siete pronti? Al mio via, pronti? A fermo, non ho detto! Che fa la signora, l'ha guato! Ne abbatta un paio. Un minuto! Silianzi veloce! Non c'è tempo da perdere! Che, sta morendo? E io devo parlare, però adesso non c'ho tempo di assistere alla morte del signore. E ma lei è una zavorra vivente, però! Sembra un parassita! Oh! Se lo lasci dire, ha provato ma ha fallito. Nice try! Coraggio, non ci incischiate! Non si scompisci! Quanti secondi? Quanti? 20! Devo dire che questi sono abbastanza veloci. Sarà che nella vita ne hanno passate tante e se la sanno cavare. Oddio! Salvatelo! Ma mi caga adesso! Sì! Lo avete salvato per un pelo! Un gesto eroico! Avanti, avanti! Rimanga attaccato! Si attacchi a tutto quello che è possibile attaccarsi, tranne una cosa! Questo pesa! Lo molli adesso! Lo molli! Basta! 5, 4, 3... 2, 2... Vada! Salti ora! Fantastico! C'è la faccia! L'ha spuntata per un pelo! Io farei un applauso a questi poveri uomini e povere donne che si sono dibattuti nella speranza di farcela! Ciao a tutti, sono Stefano Baglio e se non siete nuovi al mio canale allora saprete già che questo crossover era assolutamente inevitabile. Questo perché dopo aver fatto commentare a Palo Bonolis l'intera ultima stagione del Trono di Spade, Netflix ha chiaramente ideato Squid Game con l'unico intento di farmi realizzare una nuova serie di video. Già, perché nel caso non l'aveste ancora capito, questo è solo il primo di 6 video con Palo Bonolis, ognuno dedicato ad una delle prove. Mi è piaciuto! Ah ah! Sì, mi è piaciuto! Dunque vi raccomando di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da non perdere neanche un video. Ma prima di dirvi tante altre belle cose, come ad esempio dove acquistare questa splendida maglietta, vorrei ringraziare lo sponsor che ha reso possibile la realizzazione di questo video. La trasmissione adesso vi deve dire una cosa importante. Ti risvegli improvvisamente in Corea del Sud tra i partecipanti dello Squid Game, ma la tua unica preoccupazione è che non puoi finire riguardare l'ultimo episodio di Don Matteo perché nel catalogo di Netflix Corea c'è solo la versione orientale Gimaheishinbu? Nessun problema! Con NordVPN potrai cedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque tu sia. Grazie agli oltre 5100 server da 60 paesi ti basterà un semplice click per cambiare la tua posizione virtuale e poter così godere dei tuoi film e serie tv preferiti assenti dai cataloghi stranieri. Inoltre grazie a NordLynx potrai navigare ad una velocità incredibile evitando il buffering e streamando in tutta sicurezza. Non ti resta dunque che andare su nordvpn.com slash stefanobaglio per avere il 73% di sconto più un bonus aggiuntivo gratuito. E inoltre puoi provare NordVPN senza rischi grazie ai 30 giorni soddisfatti o rimborsati. E comunque sì, quella serie sul prete coreano esiste sul serio ed è su Netflix, non chiedetemi come io l'abbia trovata. Vi ricordo che se volete acquistare queste e tante altre, spendire magliette, vi basterà andare sul sito pamplin.com ed inserendo il codice sbaglio in fase di acquisto avrete diritto a un paio di calze gratis. Oltretutto vi ricordo che il mio codice è compatibile con la promo 4x40 che vi permetterà di acquistare 4 magliette, soli 10 euro l'una con spedizione gratuita e calze in omaggio. Ci tengo inoltre a ringraziare di cuore il talentosissimo The Donuts, il quale ha realizzato per la nuova intro del canale la copertina del re terrone, ovvero la parodia del re leone con Aldo Giovanni Giacomo. E l'immenso Angelo Maggi, voce tra i tanti di Tony Stark, Tom Hanks e il commissario Winchester, che mi ha fatto dono del suo enorme talento facendo da voice over sempre per l'intro. Trovate i link ai social di entrambi in descrizione. Beh, che dire oltre a invitarvi a seguirmi su Instagram dato che ormai manca pochissimo a quel cazzo di swipe. Ecco, mi avete fatto aspettare così tanto che adesso non potrò mai più fare lo swipe. Ora vado a finire Spider-Man No Way Home con Aldo Giovanni Giacomo, al quale sto semplicemente lavorando da ormai 6 anni, ma vi assicuro che ne varrà la pena. Io oso turbare la mia venerabile evacuazione.